Quando sono con questo gruppo, nulla mi spaventa. Vabbè, io e le ragazze per me sono più che delle sorelle. Spesso ci troviamo a parlare tra di noi, a sfogarci, però a volte le ragazze mi chiedono Najla, possiamo andare a correre insieme? E io so che in quel momento mi devono dire qualcosa di importante o qualcosa dove possono sentirsi comunque libere al sicuro e che il loro segreto rimane in quella run lì. Spesso si va a correre verso il tardi, dopo il lavoro, dopo la scuola. La maggior parte delle volte è buio e noi corriamo insieme anche per sentirci più tranquilli e più protette. Non mi sento mai sola qui. Il fatto di essere insieme ci fa sentire ancora più forti e più protette. È come una famiglia, una famiglia che fa running. Grazie. 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 Grazie.